Una ragazza mi ha chiesto di realizzare una targa in legno per suo marito. Questo è un regalo speciale perché fra pochi giorni nella loro famiglia arriverà un nuovo cucciolino. Il cagnolino si chiamerà Guapo ed è questo settore inglese nero e bianco. Abbiamo deciso di mettere i due cagnolini ai lati e al centro i loro nomi. Incollo tutte le parti e poi la targa è pronta per essere spedita. Preparo il pacchetto regalo con questo nastrino con le zampine. Guardate che bello!